Cosa abbiamo fatto quest'anno? Un cazzo! Di chi è la Serie B? Nostra! Di chi è la Serie B? Nostra! Vediamoci la prega! Cazzo! Vediamo! Noi abbiamo fatto un cazzo di miracolo! So così da quando sono bambino, le cose le sentivo così. Ho visto il pallone la prima volta, boom, tuffa il cuore. Gloria, l'ho vista, boom, tuffa il cuore. E con il ristorante ho la stessa cosa, l'abbiamo visto, boom, tutto il cuore. È assurdo, vero? Tanto stai in forma, sto la bomba. Non fai più parte del nostro progetto tecnico. Bocani, ma come cazzo parli? So io? Oh, so Claudio. Ascolta, non rendere tutto più difficile, dai. Io di te ancora mi fido, ti voglio bene, sei il mio capitano. Lo so, però, per favore, non mi farà arrabbiare. E ce la faremo. Ci credi? Lo so, io sono capitano. Che fai capitano? Da dieci a me, bugia. Puttati Claudio! Dieci giorni. Dopodiché basta. Tu sei un palazzo, tu sei un'incosciente di merda. Io così non vivo! Capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! Non devi ridere, perché sei ridendo? Che cazzo ridi? C'è solo un capitano! Non! Aaaaaaah!